Buonasera e bentornati alla Voce dei Messinesi, la trasmissione dedicata all'opinione dei cittadini. Oggi però ci occupiamo di un progetto in cui volontari, operatori e medici offrono assistenza e offrono appunto degli aiuti alle fasce sociali più deboli, in particolar modo ai senza fissa dimora. Un progetto nato già un anno e mezzo fa quando un piccolo centro nei pressi della stazione creato dalla Caritas e da altre associazioni ha iniziato ad offrire nelle ore ovviamente diurne accoglienza e assistenza ai senza fissa dimora. Di recente poi è stato aperto uno studio medico in cui il dottor Certo, presidente dell'associazione Terra di Gesù, Onlus e altri medici che lui ha definito medici di carità, offrono assistenza sanitaria gratuita. Vediamo quindi il servizio e ascoltiamo i promotori e gli organizzatori del progetto. Tra disoccupazione, licenziamenti, stipendi non versati ai lavoratori, Messina ogni giorno viene fotografata come una città sempre più spoglia. Impoverita per effetto della devastante crisi economica che sta gravando soprattutto sulle fasce medio-basse. Non si parla d'altro ai notiziari e tra la gente, ma c'è anche un'altra realtà, forse da sempre esistita. C'è infatti che ancora nel 2013, e probabilmente proprio oggi in aumento, vive senza fissa dimora, non ha un letto in cui riposare, un tetto sotto cui ripararsi o una famiglia con la quale confortarsi. Qualcuno ha perso il lavoro, qualcun altro anche l'abitazione e si rifugia tra gli angoli della città. Nell'indifferenza di molti, ma non di tutti, la Chiesa e i volontari ogni giorno offrono il loro aiuto ai più bisognosi. Un contributo notevole, proprio per i senza fissa dimora, viene svolto dagli operatori che prestano il servizio nel centro di urno aperto alla stazione centrale, creato dalla Caritas e dall'Associazione Santa Maria della Strada. Il centro è aperto da oltre un anno, è stato inaugurato l'anno scorso a gennaio del 2012. Questo centro ha come finalità di dare una mano a quanti senza dimora ruotano attorno alla stazione. Innanzitutto si cerca di stare accanto e diventare compagni di strada di queste persone che per vari motivi hanno grosse difficoltà, non hanno una rete familiare, non hanno un lavoro, hanno difficoltà di vario genere, anche di tipo psichico talvolta. E qui c'è l'opportunità durante la giornata di offrire un punto di riferimento, quindi per la doccia, per il vestiario, hanno la possibilità anche di essere informati, c'è un punto di ascolto con degli operatori stabili e quindi è un punto di riferimento per questi nostri fratelli più disagiati che vivono la povertà, vivono problematiche varie, soprattutto di solitudine o vivono le margini. Ma qui devo dire che si è realizzato questo centro e si costruiscono giorno per giorno delle ottime relazioni positive che danno la possibilità sia agli operatori che a quanti fruiscono di questo centro di poter fare un cammino umano. Purtroppo in un momento come questo di crisi economica ormai nota a tutti, possiamo dire che c'è stato un incremento di richieste o comunque un aumento della gente che si rivolge a voi? Sicuramente un aumento senz'altro, anche se determinate povertà ci sono sempre, forse cambia il momento sociale, il momento di crisi generale che viviamo ci fa percepire una maggiore sofferenza, anche un aumento numerico perché si vedono persone non solo straniere ma anche italiane e quindi questo manifesta insomma una sofferenza sociale notevole. Una struttura in cui recentemente è stato inaugurato uno studio medico, gestito dal dottor Francesco Certo, cardiologo, angiologo e presidente dell'associazione Onlus Terra di Gesù, ma accanto a lui ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18 si alternano i medici di carità, così li ha designati il dottor Certo per mettere in evidenza il servizio sanitario gratuito offerto a chi ne ha bisogno. Specialisti di ogni settore effettuano visite ai pazienti che ne facciano richiesta, relativi al reparto di anestesia, chirurgia pediatrica, neurologia, oculistica, ginecologia, cardiologia, dermatologia e altre discipline. Da maggio nel centro avete aperto anche uno studio di assistenza medica e quindi sanitaria, tanti medici a disposizione dei pazienti, quindi quali sono i maggiori servizi che offrite e soprattutto c'è un'ampia richiesta? Intanto c'è una grande richiesta, il gruppo di medici e il gruppo medici di carità sono circa 14 medici delle più disparate discipline. Io sono qui come referente Caritas per il progetto Sanità e come Presidente della Terra di Gesù. Vediamo sì molta richiesta e vediamo quello che temevamo. Molte delle persone che afferiscono al centro hanno perso il diritto alla salute, sono persone che non hanno i soldi per l'antibiotico, sono persone che non hanno diritto a visite specialistiche. Tant'è vero che una delle prime cose che abbiamo fatto è stata quella di attivare un fondo farmaceutico per permettere alle persone di avere il farmaco al di là della possibile irregolarità della persona, oppure avere il farmaco anche se il farmaco è in fascia e quindi a pagamento. Un pezzo di Africa è qui, ci sono persone che soffrono, che hanno perso questo diritto e strutture come queste vogliono fare riscoprire in modo amorevole, perché io tengo anche il rapporto, giusto che ci sia anche il rapporto umano medico paziente, il diritto sacrosanto a essere visitati e a essere visitati bene, bene, col cuore anche, non solo con la scienza ma anche col cuore. Lei quindi da medico può effettivamente constatare il fatto che molte persone a causa di una diminuzione del reddito, addirittura la perdita di uno stipendio rinuncia quindi ad acquistare medicinali? Questa è una realtà che conoscevo da prima di questa realtà, soprattutto i farmaci in fascia C sono diventati il lusso per molti, la fascia, il segmento questo è ancora più debole perché qua stiamo parlando di persone che sono irregolari, stiamo parlando di senza fissa e dimora, quindi scendiamo ancora. Certo, come diceva padre Dipoto, c'è una nuova povertà che incontra questa povertà che sta ancora peggio, che sta ancora peggio. Ecco, pensare che ancora nel 2013 ci siano persone che non hanno i farmaci per l'ipertensione, questo ve lo dico perché è successo. Una paziente di 50 anni è venuta qui con 200 di pressione perché non aveva i soldi per comprare il farmaco e distribuiamo giornalmente antibiotici perché sono persone che pur avendo broncopolmonidi o altro non hanno i soldi per comprare il farmaco, questo ve lo posso dire sì, perché è realtà di questi momenti e sicuramente sono i primi momenti dello studio, probabilmente sarà il caso di fare i conti dopo, però la realtà che noi viviamo e che già tocchiamo con mani è questa, però io dico di più, noi non vogliamo andare oltre, non vogliamo togliere il dente marcio, vogliamo fare la prevenzione. Le faccio un esempio, giorno 20 organizziamo lo screening ginecologico, cioè non è una medicina di attesa ma è una medicina di proposta che vuole incontrare il disagiato e metterlo in condizioni di farsi curare come sono curati tutti i cittadini perché siamo tutti uguali. Ricordiamo anche ai cittadini che per rivolgersi a voi possono semplicemente telefonare? I numeri dell'Elpe Center avranno le risposte, avranno le risposte in base alle nostre disponibilità alle discipline che però sono parecchie e speriamo di migliorare nel senso di ampliare anche la possibilità perché ricordo che questo studio parte già come a livello cardiovascolare come uno studio diagnostico di secondo livello, ha già un ecocolordoppler e multifunzione e un elettocardiofo tre canali. Ma nel piccolo centro alla stazione sono in tanti a collaborare tra medici e volontari cercando per quanto possibile di sostenere e aiutare gli utenti non solo dal punto di vista sanitario ma anche psicologico e morale ci raccontano e sono in molti lì ogni giorno. È un ritrovo in cui si dialoga, si cucina, viene offerto un servizio internet e si svolgono anche attività ludiche e di svago. L'Associazione Santa Maria della Strada anche qui offre il suo contributo di volontariato ovviamente alla gente che ne ha bisogno. Quali sono le vostre offerte? Noi cerchiamo di stare vicini agli ospiti che girano intorno al centro, questo centro diurno che come si è detto prima è stato offerto dalle ferrovie, è stato ristrutturato dall'Enel Cuore e, incomodato d'uso alla Caritas di Ocesana, è gestito dalla mia associazione. Cosa facciamo? Ci sono degli operatori e dei volontari che stanno accanto a chi nel bisogno viene e fa riferimento a questa struttura diurna. Cerchiamo di stare vicini a questa gente, cerchiamo in qualche modo di condividere con loro un paio d'ore della giornata. E in quest'anno si sono creati rapporti molto belli, perché oltre la conoscenza che già c'era, perché la mia associazione è presente alla stazione ancora oggi, attraverso dei volontari che tutte le sere escono e cercano rapporti, creano rapporti con queste persone. Adesso invece ci stiamo e il fatto che ci stiamo sta creando delle amicizie abbastanza profonde che permettono a ogni ospite, perché qui abbiamo anche la nostra psicologa, di aprirsi e di affrontare i diversi problemi che poi sono stati causa della loro vita di strada. Le fasce più deboli probabilmente non hanno bisogno semplicemente di un contributo materiale ed economico, ma anche sociale, una sorta di compagnia o comunque un aiuto. Voi da centro e con l'aiuto della psicologa potete effettivamente testimoniare questo? Certo, noi questo facciamo soprattutto, perché noi qua non diamo niente, se non la nostra amicizia e la nostra disponibilità. La cosa bella è che in questo centro è presente un personale qualificato, ma oltre questo si cerca non di fare assistenzialismo, nel senso tu vieni, io ti do la biancheria pulita per lavarti, ti do la possibilità di farti la doccia, ma questo centro è in qualche modo autogestito dagli ospiti stessi. Io qua non ti permetto di avere la doccia già sistemata da qualcuno che volontariamente l'ha sistemata, ma sei tu che la usi e poi la sistemi perché chi viene dopo trovi la doccia pulita e quant'altro. Cioè nel senso stiamo cercando di aiutare gli ospiti ad essere capaci di autogestirsi quel tempo che stanno in questa casa, in questa struttura. E che le posso dire? Una cosa molto bella, è stata pubblicizzata e abbiamo avuto anche tantissima gente, è stata la festa che loro hanno organizzato e invitando tutte le associazioni che in qualche modo lavorano intorno alla stazione, ci ha fatto trascorrere una sera molto bella, molto piacevole e questa festa ha creato rapporti ancora più forti. La stazione ci ha dato la possibilità di utilizzare il Parco degli Ulivi, che è il locale che c'è adiacente. Quella mattina era molto sporco perché la gente fa i propri bisogni, loro sai si sono messi con detersivo, scopone e straccio per pulire il tutto, perché vedevano che era una cosa loro, non una cosa che gli si proponeva, ma una cosa che loro proponevano a noi. Quindi la bellezza e la ricchezza che questa gente ha e che noi tante volte schiviamo, ecco questo è il bello, diciamo, di questo servizio. Un'iniziativa quindi ben organizzata e coordinata nonostante sia ancora agli esordi, ma sicuramente l'affluenza è già notevole. Auspichiamo quindi che i volontari e gli operatori possano incrementare il loro lavoro. Intanto grazie ai nostri ospiti intervistati e ai telespettatori. Buona serata. Grazie.